Musica Scuola il Piemonte parte con tutti i docenti a disposizione, la copertura è di oltre il 96% dei posti. Gli studenti dell'istocco bianchi di Verbania rientro a scuola troveranno nuove aule dopo il macchiage estivo. Partiti i lavori per la posa della nuova recinzione ripristino del muro distrutto da un canio lo scorso 21 giugno. Petizione a crevo la seguito del passaggio dal comune a privato di un tratto della strada che collega Pinone a Villa dell'Oro. Tutto pronto a Masera per l'avvio della 95esima festa dell'Uva, mercoledì la tirata del Bue e lo spettacolo teatrale dei bimbi. Tutto pronto in ossola per il World Sky Running Champs, giovedì pomeriggio a domo, l'apertura della tre giorni di sport. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora manca davvero pochissimo, meno di una settimana all'avvio di un nuovo anno scolastico e l'ufficio scolastico regionale fa sapere che ci sono delle buone notizie. Perché? Perché tutti i docenti a questo punto sono a disposizione delle scuole. Sentiamo. L'ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha concluso le operazioni di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione entro i tempi previsti dal Ministero. La copertura di oltre il 96% dei posti permette alle scuole, fin dai primi giorni, di avere tutti i docenti a disposizione per un pieno coinvolgimento nelle prime attività collegiali, fondamentali nella programmazione delle iniziative legate alla realizzazione del piano di formazione e del progetto di vita di ogni singolo alunno. Ad affermarlo il direttore generale Stefano Suraniti, in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico, con inizio delle elezioni il 12 settembre. Suraniti spiega che ad oggi sono state effettuate 2.971 immissioni in ruolo, di cui 2.076 su posti comuni, 888 su posti di sostegno e 7 sui posti di personale educativo. Nelle prossime settimane saranno effettuate ulteriori immissioni in ruolo per ulteriori 2.400 posti e quanto alle supplenze sono state assegnate 15.791 incarichi a tempo determinato, di cui il 37% su posti di sostegno. Sul fronte personale ATA, invece, sono state effettuate 763 immissioni in ruolo e assegnati 1.054 contratti a tempo determinato. Le restanti disponibilità precise saranno coperte da graduatori d'istituto dopo la liberatoria degli ambiti territoriali. Suraniti osserva poi che è un anno scolastico importante anche per la realizzazione degli obiettivi del PNRR e ricorda che per le scuole piemontesi sono stati stanziati oltre 405 milioni, 27 per la prevenzione della disposizione scolastica, 268 per l'edilizia scolastica, di cui 128 per la realizzazione di asili nido e scuole dell'infanzia e 110 milioni per il piano scuola 4.0, che spiega permetterà di progettare nuovi ambienti di apprendimento e una nuova didattica e di sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati. Una fondamentale opportunità per il sistema scolastico piemontese, dice, di ridisegnare il proprio presente e il proprio futuro, facendo leva sulle nuove tecnologie come strumento di inclusione e riduzione dei divari territoriali. La buona notizia è certamente quella che sarà una ripartenza normale dopo l'emergenza Covid che ha caratterizzato gli ultimi due anni. E poi c'è un'altra certezza per chi, per gli studenti dell'Istituto Cobianchi di Verbania, perché al rientro, dopo la pausa estiva, troveranno nuove aule. Tutto questo succede grazie alla collaborazione nata tra l'amministrazione provinciale e l'azienda verbanese PPG, che produce vernici in polvere. Questo ha permesso di dare nuovi colori alle aule con tonalità pastello che danno tutto un altro aspetto. La presentazione di questo progetto è stata anche l'occasione per i vertici della provincia per fare l'appunto relativamente agli investimenti fatti all'interno del Cobianchi. Lunedì i più di 2.000 studenti del Cobianchi torneranno in classe. La bella notizia è che avranno gli spazi adeguati. Certo, è una bella notizia. Anche noi siamo contenti perché, come sempre, i nostri studenti avranno le aule e troveranno le aule giuste, niente di qualcosa di mistificato, di qualcosa di arrangiato, ma aule più belle, sempre più belle, e dobbiamo dire anche dei laboratori nuovi, completamente un Cobianchi rinnovato. Ogni anno anche noi ci meravigliamo che durante l'estate arrivi questa trasformazione grazie alla provincia. In questi ultimi tre anni, quante sono state le nuove aule realizzate al Cobianchi? Do un dato, anno scolastico 18-19, poco meno di 1.500 studenti, 77 aule. Anno scolastico 22-23 che sta per iniziare, più di 2.100 studenti, quindi più 600 studenti, e 104 aule, quindi ci sono 23 aule in più, ci sono 3 laboratori, un ufficio e un locale deposito, per un investimento complessivo di 1.500.000 euro. Da non dimenticare, stiamo finendo la sostituzione delle due centrali termiche per un importo di 187.000 euro, che saranno attive con l'avvio dell'anno scolastico. Un patrimonio scolastico importante è quello che ricade sotto la giurisdizione della provincia del VCO, tanto impegno e anche ulteriori fondi da trovare. Sì, assolutamente, è una sfida anche, ma grazie sicuramente al delegato Albertella, ai nostri uffici, l'ingegnere recupero che segue l'edilizia scolastica, stiamo facendo veramente delle cose importanti. Il CoBianchi oggi è un esempio anche virtuoso di come si possono recuperare degli spazi senza consumare ulteriore suolo all'interno della struttura, e così su tutti gli altri plessi ci stiamo attivando. La sostituzione soprattutto delle caldaie in questo plesso va nella direzione dell'efficientamento anche energetico, che in questo momento sapete tutti in che condizioni siamo, e per cui è un qualcosa di importante, e così stiamo lavorando su tutte le altre scuole. L'incidente si era verificato lo scorso 21 giugno, quando un camion per il soccorso aveva sbandato, distruggendo completamente la recinzione e il muretto all'inizio di via Mazzini a Omenia. Lunedì sono cominciati i lavori, vediamo le immagini, in carico a Delil Vastrona, commissionati dall'Asla per la posa della nuova recinzione e il ripristino del muretto distrutto. L'autista del mezzo aveva perso il controllo, dopo aver svoltato a sinistra dalla strada che sale dall'ospedale verso via Novara e Mazzini, era andato a sbattere contro la recinzione, distruggendo il muretto, piombando nel cortile sottostante dopo un volo di alcuni metri. La fortuna ha voluto che il camion non fosse andato ad urtare le colonne che sostengono l'edificio che ospita il laboratorio analisi e la sede comunale dell'Avis di Omenia. Abbiamo parlato poco fa di scuola, su questo versante si lavora anche ad Ornavasso, è stato presentato un progetto nell'ambito del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, ma non è l'unico progetto al quale Ornavasso guarda con attenzione. Sentiamo. Anche per Ornavasso arrivano buone notizie. Dai bandi del PNNR finanziati tre progetti distinti, in particolare forse il più significativo è quello che consentirà la realizzazione della nuova messa scolastica. Sì, beh, non lo definirei il più significativo perché forse, diciamo che è importante, il più importante, o almeno quello a cui noi teniamo di più, è la realizzazione di una residenza per disabili, per il dopo di noi. Noi appunto, come ha detto lei, abbiamo tre progetti finanziati dal PNRR, il primo riguarda la realizzazione di una mensa scolastica per 550.000 euro, una mensa scolastica che verrà realizzata nell'andito, quindi nel giardino e nel parcheggio della scuola elementare e che servirà adesso a liberare l'attuale mensa che a sua volta aveva preso il posto dei laboratori didattici e quindi potendo, quindi a questo punto, nella scuola elementare riutilizzare i laboratori didattici, mensa che ha servizio tanto della scuola elementare quanto della scuola media. Poi gli altri due progetti sono appunto la realizzazione di questa residenza per disabili dopo di noi, un progetto che facciamo in collaborazione con il CSW, il Centro Servizi del Verbano di cui facciamo parte, ed è un progetto di circa 720.000 euro circa, per sei persone appunto, persone che non sono ancora giovani e bisogna occuparsi di loro e che quindi non possono accedere direttamente alle case di riposo. è un modo, secondo me, per vivere bene questa loro problematica, viverla insieme ma viverla in assoluta normalità. Il terzo progetto invece riguarda la realizzazione di una nuova area di conferimento dei rifiuti presso la nostra zona industriale. In questo caso invece stiamo lavorando in collaborazione con il Conservi CO che sempre in quell'area ha in progetto, anzi più che in progetto ormai in procinto, di realizzare una nuova area appunto di Conservi CO che si dovrà occupare di materiali riciclati, in particolare un impianto a secco per la plastica e quindi per la cernita della plastica che poi verrà venduta e un impianto invece per il compattamento della carta. A Crevola d'Ossola l'ampliamento della cava di marmo di Palissandro anima il dibattito tra i residenti e l'amministrazione comunale. Una petizione è stata presentata nei giorni scorsi al Comune. I frazionisti hanno chiesto ed ottenuto dal sindaco di Crevola, Giorgio Ferroni, un incontro pubblico si terrà giovedì pomeriggio alle 18.30. Chi ha partecipato alla raccolta firme teme che l'ampliamento del giacimento possa impedire il passaggio pubblico sulla strada destinata a diventare ora privata. Il tracciato è quello che collega la zona di Pinone con Villa dell'Oro. I residenti contestano anche la posa di alcuni compressori nelle vicinanze delle abitazioni, dicono questione tutte, che comunque saranno sottoposte all'attenzione del Comune nell'Assemblea pubblica convocata giovedì pomeriggio. Ora gli aggiornamenti sulla fronte Covid. Nuovi 1.818 casi di positività accertata in Piemonte con una quota del 12,9% rispetto a quei 14.000 circa tamponi diagnostici processati. Sulla fronte ospedaliero 24 ricoveri nei reparti ordinari dove il totale scende a 255. In terapia intensiva invece se ne registra uno in più rispetto alla giornata di ieri con un dato complessivo che ora si attesta su nove ricoverati. Sono stati registrati anche quattro decessi. Annunciata dalle previsioni meteo, la pioggia in alcune zone della provincia è arrivata. È stata anche intensa ma non certo risolutiva per quelli che sono i problemi di siccità che si registrano sul territorio, a cominciare da quello che è il livello del Lago Maggiore. Da un estremo all'altro, qualche giorno fa parlavamo del livello del Lago Maggiore che aveva raggiunto meno 32 centimetri sotto lo zero idrometrico mettendo in difficoltà i battelli traghetti della navigazione Lago Maggiore. Ebbene, i dati storici riportano che l'ultima settimana di settembre del 1981 le acque erano esondate raggiungendo, proprio il 28 settembre, 5 metri e 32 centimetri sopra lo zero idrometrico, ben 5 metri e 64 centimetri al di sopra del livello minimo registrato il 3 agosto scorso, una quota pari a due appartamenti di un condominio. Allora il Lago Adarona invase completamente il quartiere Santa Monica e arrivò ad invadere i negozi del Lungolago e di Via Cavour. A Pallanza inondò tutto il Lungolago e la piazza del municipio. Incredibile questi eccessi minimi e massimi che il Verbano ha fatto registrare a soli 41 anni di distanza. Il livello massimo che si ricordi però è quello del 4 ottobre 1868, 154 anni fa, quando il Lago Adarona invase con oltre 3 metri il corso. In tutti i paesi che si affacciano sulle rive del lago si registrarono molti morti. In quanto le copiose precipitazioni alzarono rapidamente il livello delle acque in poche ore della notte. Sul corso ad Arona sono ancora visibili le marmette che indicano il livello recorraggiunto e la data. Va detto che le piogge dei giorni scorsi hanno portato il livello del Lago Maggiore ad una quota che consente ai battelli e ai traghetti una navigazione normale. Sono ripresi di scali Aranco, Ispra e Porto Valtravaglia, sulla sponda Lombarda. Contemporaneamente però hanno segnato la fine di un'estate contraddistinta da una calura insolita e una grande siccità. E' stato certamente l'argomento più gettonato dell'estate, quello del lago e della siccità. Noi ora voltiamo pagina, parliamo di Pompieropoli che si è svolta a Omenia. Pompieri per un giorno. Lo sono stati domeniche a più di 500 bambini che ai giardini pubblici hanno preso parte all'edizione 2022 di Grisulandia organizzata dalla Delegazione dei Vigi del Fuoco Volontari di Omenia. Provi di abilità e di equilibrio, giochi, ma anche piccole esercitazioni di salto, di passaggio su un ponte e poi il salvataggio di un gattino, lo spegnimento del fuoco, tanti ingredienti per una festa davvero riuscita ed apprezzata che ha richiamato, come detto, più di 500 bambini e le loro famiglie in Piazza Martire della Libertà. Una giornata strepitosa sotto tutti i punti di vista. Tanta tantissima gente che ci ha dimostrato ancora una volta il suo effetto. Mi sono emozionato, racconta Thomas Ottina, anima della stazione omenese, quando dalla cucina ho lanciato uno sguardo attorno alle 10.30 verso il punto di partenza del percorso di Grisulandia. Code di famiglie in attesa arrivavano già al monumento e due ore dopo non vedevo la fine della fila di gente che attendeva di mangiare la nostra gridiata. Un'emozione unica a vedere i ragazzi accompagnati dal Dottor Clown con gli occhi pieni di gioia per aver effettuato il percorso e guadagnato l'attestato di pompiere per un giorno. Ringrazio di cuore tutte le persone che sono intervenute e ringrazio quelli che ci hanno aiutato nella buona riuscita della giornata. I volontari, le associazioni Abro e Novi del Mastrorino, sempre vicine a noi, i fantastici Dottor Clown, gli sponsor e le istituzioni. Il ricavato della manifestazione servirà per l'acquisto dell'attrezzatura di soccorso per il caricamento del nuovo pick-up e per un progetto benedico che sarà scelto a breve. E a proposito di manifestazione, Masera si prepara a indossare l'abito della festa perché siamo al via della 95esima edizione della Festa dell'Uva. L'apertura mercoledì sera con la tirata del bue e lo spettacolo teatrale alle 20.30 in piazza della Chiesa. Pasta e bagiana, polenta, tutto confermato? Allora, venerdì grande polentata confermata che tutti gli anni è un grande successo, abbiamo i nostri polentati che sono sempre in prima fila e la pasta e bagiana anche confermata, abbiamo deciso però di portarla tutte le sere, quindi avremo i nostri grandi cuochi esperti che si stanno già muovendo per reperire il formaggio giusto, il burro d'alpe e appunto la proporremo tutte le sere perché è il nostro piatto punta di diamante e vediamo che ha sempre anche questo un grande riscontro e siamo molto fieri della nostra pasta e bagiana. Quando è che iniziamo? Iniziamo venerdì, quest'anno abbiamo ridotto di un giorno quindi si inizierà venerdì 9 fino al 12 del lunedì e il mercoledì confermiamo la tirata del bue sul campanile e la scenetta con i bimbi in dialetto, poi ci sarà un giorno di stop del giovedì dove saremo tutti giù a montare, mettere tavoli e poi venerdì si parte. Sono anche quest'anno responsabile della Canva che è il nostro settore di alta qualità della festa dove presentiamo tutti i prodotti delle eccellenze enogastronomiche per cui salumi, formaggi e i vini dove ci saranno chiaramente i nostri vini doc della Pao e anche come tutti gli anni il consorzio della tutela Nebbioli dell'Alto Piemonte. Ci tenevamo anche a fare una specifica proprio sul nostro giro enogastronomico che abbiamo organizzato dove tutto è fatto perché le persone possano godere di un'esperienza ma profonda, cioè radicata nel nostro territorio. Quindi saranno gruppi poco numerosi di circa 30 persone che potranno sfruttare a pieno la visita all'interno del paese di Masera. Sicuramente abbiamo voluto fare questa camminata all'interno del paese per staccarci un pochettino dalla sfilata che era classicamente attraverso la via provinciale del paese tagliava fuori tutte quelle che erano le frazioni alte quelle effettivamente più antiche di Masera che meritano di essere viste. Così facendo noi porteremo dei gruppi di persone dal campo sportivo a gruppi di 20-30 persone fermandoci nelle varie frazioni per 5 tappe e ogni tappa si potrà mangiare, bere qualcosa questa tazzina verrà data come biglietto per partecipare alla sfilata ognuno potrà mangiare e bere in ogni frazione e divertirsi e saranno guidate ci saranno delle guide che porteranno i vari gruppi faranno fare le varie tappe e daranno un po' le tempistiche per poi tornare giù al campo sportivo e continuare la festa alla serata. E ora siamo allo sport perché dal 9 all'11 di settembre l'Ossola aveva un momento speciale per la corsa in montagna parliamo del campionato mondiale di Sky Running nei giorni scorsi all'Ossola Outdoor Center di Crevola d'Ossola l'organizzazione ha distribuito le magliette ai pensate 400 volontari che vigileranno sulla competizione dislocata tra le montagne delle valli Bonianco, di Vedro e Formazza tutto è pronto l'inaugurazione in programma per giovedì con una cerimonia in piazza a Domodossola e Domodossola saluterà questo evento sportivo anche con una serata dei giovedì d'estate in piazza. Ci siamo quasi, pochissimi giorni allo scattare del campionato del mondo di Sky Running in Ostola quest'oggi siamo qui all'Ossola Outdoor Center per la distribuzione delle magliette ai volontari impegnati in organizzazione della gara quest'anno c'è stata questa campagna di acquisizione volontari qui all'Ossola Outdoor Center è stato un successo già avevamo tanti volontari gli anni passati sono ancora aumentati i volontari perciò fra tutte le gare arriveremo a avere circa 400 volontari impegnati nell'organizzazione perciò a parte quello che saranno la delegazione del soccorso alpino e la IB, le varie IB, la Croce Rossa eccetera abbiamo tantissimi privati e la campagna che abbiamo fatto di adesione qui all'Ossola Outdoor Center ha contribuito ad aumentare proprio questo numero di questo esercito di volontari tutto è pronto per l'organizzazione giovedì si partirà con a Domodossola la cerimonia di apertura prima della cerimonia di apertura una piccola gara riservata ai più piccoli una mini Sky Race in questi giorni tantissimi gli atleti i top runners e le nazionali già presenti in Ossola abbiamo l'onore quest'oggi di avere qua alla disposizione delle magliette dei volontari abbiamo qua una grandissima campionessa Denisa Dragomir team Mer Red Bull lei ha vinto 5 volte la veia ed è una delle papabili vincitrici dell'oro mondiale alla Sky Race sono felice che sono riuscito di tornare dopo una stagione molto difficile per me come qua da anni voglio vincere la gara questo anno è un motivo di più perché la veia Sky Race sarà il campionato mondiale di Sky Running e voglio fare una grande gara e sfruttare di queste montagne vi abbiamo già riferito della manifestazione atleta dell'anno di Ornavasso che ha premiato Elisa Longo Borghini ebbene c'erano altri due atleti dell'anno la guida alpina Fabrizio Mannoni e poi la campione di corsa in montagna Giulio Ornati Fabrizio Mannoni guida alpina escalatore dall'Ossola all'Everest tante nella tua vita le esperienze estreme quindi sicuramente è un riconoscimento più che meritato ma sì sono molto contento di questo riconoscimento che mi ha attribuito la mia comunità noi alpinisti quasi sempre operiamo nell'ombra anche se nella luce dell'alta quota perché non abbiamo i riflettori di uno stadio o di un circuito di un circuito sportivo e la nostra scena è l'alta montagna o le rocce dove stiamo da soli oggi diciamo i social i social con i loro aspetti negativi però sicuramente hanno portato anche lo sport dell'alpinismo dell'arrampicata ad essere conosciuto come molti sport dell'outdoor oggi definiti dell'outdoor che solo pochi anni fa difficilmente potevano essere portati in visione a così tante persone e questo è positivo sicuramente un riconoscimento importante quello di oggi sì a me fa molto piacere sono da ormai sei anni che sono a Dornavasso perché ho sposato mia moglie che è di qui e quindi sono subito entrato nella comunità e la seconda volta che prendo questo questo riconoscimento e fa piacere perché poi alla comunità oltre che a me vedo proprio che c'è c'è molta c'è molta ci tengono molto a questo premio e quindi è una cosa super bella per me è una passione correre sulle montagne ormai è diventata la mia vita e più ci sto meglio ci sto per cui è sicuramente una soddisfazione e l'arrivo poi con il mio bimbo è sempre mi fa sempre una grande emozione e chiaramente chiaramente sono sacrifici e come tutte le cose portano via tempo alla famiglia all'altro però tutto quello che è montagna e che è corsa e competizione a me stimola e quindi ora come sempre la parola a Don Renato Sacco per le sue riflessioni del martedì sì ben trovati a tutti a tutti questo breve spazio nel telegiornale vuole essere un messaggio soprattutto per i ragazzi le ragazze piccoli grandi studenti e studentesse che tra pochi giorni meno di una settimana ritornano a scuola e leghiamo a questo augurio questo in bocca al lupo tre episodi che citiamo soltanto che ci devono interrogare tutti per diventare una comunità educativa il primo episodio Alessandro 13 anni provincia di Napoli sulla chat riceve dopo tanti messaggi ti devi uccidere il ragazzino 13 anni si butta dal balcone uno dei tanti episodi di cyberbullismo ci deve far riflettere un candidato a Firenze dice se il 25 settembre votato il mio partito inquadra una donna rom questa donna non la vedrai mai più non è anche questo forse bullismo istigazione a che cosa e poi la neopremier britannica la signora Liz Truss dichiara che è pronta a schiacciare il bottone delle armi nucleari a prendersi le sue responsabilità ecco allora ci preoccupa il mondo dei ragazzi ma ci preoccupa il mondo degli adulti e l'importante è chiederci ma noi che messaggio diamo ai nostri ragazzi di vita o di morte di speranza di razzismo di violenza di guerra o di vita di gioia della vita magari ne parliamo meglio mercoledì con non di solo pane intanto davvero un in bocca al lupo a tutti dai piccoli ai grandi ragazzi e ragazze che inizieranno l'avventura la grande esperienza della scuola ci vediamo venerdì arrivederci grazie a Don Renato io mi fermo qui tutti gli aggiornamenti su sito sui social grazie buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.